L'ospite di oggi, anzi chi ci ha ospitato oggi è Banca Nuova, siamo in compagnia del direttore generale Umberto Seretti. Insomma parlare di morte non è una cosa facilissima direttore, voglio dire dare questo messaggio, il dottore Tizzino è stato graziosissimo a parlare di morte in maniera molto semplice, però nella sua riflessione ha parlato anche di un momento importante delle imprese, facendo un'analogia tra imprese e la Samot, diciamo che per far funzionare bene un'impresa bisogna avere due momenti importanti, appunto il momento dove iniziare l'attività e il bisogno, dal punto di vista invece bancario, lei che ne pensa. È difficile cogliere le analogie su argomenti così profondi e importanti, intanto premetto che siamo particolarmente contenti di ospitare un evento così meritevole come quello di oggi della Samot che tra l'altro festeggia il venticinquesimo anno di attività. Un'azienda nasce, vive e purtroppo a volte muore. Il compito della banca è quello di aiutarla a nascere e farla prosperare, perché se prospera l'azienda e prosperano i dipendenti e gli imprenditori prospera anche la banca, sicuramente una banca come la nostra che vive di territorio molto vicina alle esigenze della popolazione e delle piccole imprese. Quello che è la nostra mission è quella di cercare di salvaguardare l'esistenza, accompagnandola nei vari momenti di crescita e di sviluppo e cercando di evitare che arrivi alla fine, perché mentre la certezza che in discussione del convegno di oggi è che la vita umana finisce, non c'è certezza che l'azienda finisca, l'azienda può prosperare. E come si fa a evitare che un'azienda oggi muoia con tutto quello che sta vivendo l'economia italiana, l'economia nel mondo? La banca deve essere comunque molto vicina all'imprenditore, c'è negli ultimi anni un distacco notevole tra imprenditore e banca, la banca spesso se non ha quelle garanzie che tutti quanti chiedono, l'imprenditore si ritrova solo, dal vostro punto di vista? È un argomento molto controverso, dal nostro punto di vista noi registriamo una scarsa richiesta di credito, una scarsa propensione al momento all'investimento e al rischio da parte degli imprenditori, il paradosso è che una banca come la nostra con 500 milioni di liquidità, sempre pronta a seguire progetti meritevoli e ad accompagnare aziende meritevoli, a volte fatica ad impiegare proprio perché la domanda è scarsa. Questo cosa sta a significare? Che non ci sono più imprenditori che credono nell'impresa? O c'è qualcosa magari tra la vostra banca e altre banche siete più cari, insomma ci sono delle problematiche? Io penso che comunque la concorrenza è forte ormai per voi bancari. Io credo che il denaro poco come oggi non sia mai costato, nel senso che i tassi sono vicini allo zero e meno di così sinceramente difficile che possa costare, siamo ai minimi storici di sempre. Il problema è diverso, il problema è una crisi globale nell'ambito della quale le imprese devono trovare modo e sistema per uscirne. Un modo che noi suggeriamo sempre è quello ad esempio di internazionalizzare, di allargare i mercati con una maggiore propensione all'esportazione. E quando si parla di cultura di impresa è possibile che noi non siamo pronti per fare questa internazionalizzazione né dal punto di vista strutturale né dal punto di vista mentale, cioè di cultura? Questo è un altro problema. Sicuramente una delle caratteristiche delle imprese siciliane ma anche calabresi è quella dell'accessiva frammentazione. Bisogna cercare tutti assieme di fare il sistema, di unirsi, di consunziarsi e presentarsi all'estero come una squadra. Fare rete in Sicilia non è semplice, noi cerchiamo di essere da stimolo anche su questo. Siete strutturati in modo tale da seguire anche i progetti per le imprese, cioè Banca Nuova dà oggi il supporto delle imprese, il consulente finanziario, il consulente che predisponga in qualche modo anche quel business plan che molti non sanno fare. Noi siamo sicuramente strutturati anche più di un semplice business plan nel senso che abbiamo una merchant che si chiama Nordest Merchant che è proprio finalizzata a seguire le aziende nella loro attività di crescita e sviluppo con eventuali acquisizioni e quant'altro, con allargamento su mercati esteri. Abbiamo numerosi uffici di rappresentanza nei maggiori continenti e quindi ci sentiamo pronti per accompagnare le imprese che lo vogliono e che necessitano anche in un'attività di allargamento dei loro mercati. Si può pensare che Banca Nuova è forse meno richiesta dalle altre banche perché è meno siciliana dalle altre? No, assolutamente. Banca Nuova non è meno siciliana delle altre perché è l'unica banca con una direzione generale a Palermo, non ce ne sono più. E oltre a questo Banca Nuova, contrariamente a quello che è nell'immaginario comune, in Sicilia impiega molto più di quanto raccoglie. Noi abbiamo seguito anche eventi di banche concorrenze come quella del Banco di Sicilia, Unicredit di BNL, dove avevano costruito degli strumenti per le famiglie, i cosiddetti crediti alle famiglie di piccolo importo aiutati anche dalla regione siciliana e anche per le imprese e qualcuno non è andato molto bene perché questi soldi non sono mai usciti da BNL. Voi siete stati in qualche modo, diciamo, non avete partecipato a questo bando perché Banca Nuova non era presente? No, io non so del bando di BNL, non so perché sia andato bene o perché sia andato male. So che la nostra attività, il nostro core business è proprio quello di accompagnare le esigenze delle imprese e delle famiglie. Su questo eravamo e siamo presenti e come ho ripetuto prima, il fatto che noi in queste regioni, in queste terre, si impieghi molto più di quanto si raccoglie, è una spiegazione che non necessita di ulteriori definizioni. Concludiamo con un'ultima domanda, direttore. Di impresa si può morire in Sicilia? No, direi che di impresa ci si può sviluppare e creare benessere. Basta fare cosa? Ci dica qualche consiglio, lei che è un esperto. Stare attenti a risparmiare? Ci vuole la giusta propensione al rischio, ci vogliono dei partner adeguati, ci vogliono le banche giuste, ci vogliono le idee, ci vogliono un po' di voglia di rischiare. Formazione sì, forse diversa da quella che si è fatta fino ad oggi, nel senso che una delle grosse potenzialità di questa regione assolutamente non sfruttata è ad esempio quella del turismo. Quindi io penso che una formazione sulla giusta accoglienza con un'attività di miglioramento delle infrastrutture di tutti i tipi e quando parlo di formazione parlo proprio dell'accoglienza di natura alberghiera, sulla cultura, sui viaggi e quant'altro. C'è tutto da costruire, ecco su questo si potrebbe investire molto. Se qualcuno avesse dei progetti, Banca Nuova è ben lieta di appoggiarlo. Grazie, direttore. Auguri al loro.